it's a trap bitch allora buona a tutti cittadini di youtube benvenuti in questo nuovo video sono tnagas per il canale di dtgamers e oggi per giochi e cose di momento in caso siamo su hogar.io questo è un giochino molto bello in flash quindi non bisogna anche stare lì in cui noi personificheremo un batterio che deve vivere sopravvivere mangiando cacca lasciata da un dio non si sa chi e questo è ciò non dobbiamo fare nient'altro che mangiare la cacca e mangiare i nostri simili quindi mi sembra abbastanza facile forse riuscirei a vincere anch'io non lo so è un'ipotesi abbastanza rimota ma comunque io ci provo mettiamo sempre subito il nostro nome che deve essere un nome serio perché deve rappresentare me stesso quindi deve essere serio professionale ananas ecco praticamente noi dobbiamo nutrirci di questi cerchiolini aaaaaaah porca puttana partiamo bene stavo dicendo noi dobbiamo nutrirci di questi cerchiolini qui per crescere pian piano e man mano cresciamo mangiando questi cerchiolini possiamo diventare più grandi per mangiare anche le altre persone più piccole e non lui per esempio si sono partito alla grande mangia mangia amore mio mangia mangia no quello ne è fermo sei una bagascia era io faccio ricorso guarda quanta roba c'è in giro da mangiare ma come siamo contenti ora siamo solo noi in giro come non aaaaaa come non detto stavo scherzando perché è comparso il mondo calmi 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 stavo scherzando ok questo qua è il figlio di puttana che mi ha ucciso prima che ti possa morire la moglie vattene via non cagarmi le balle dai vattene ok aaaaaa aiuto sono che cos'è quello sono seguito da due nazisti aiutatemi ok se ne è andato se ne è andato cos'ho appena visto cos'ho appena oddio aaaaaa no fatti mangiare figlio di puttana fatti mangiare vieni qua bagascia vieni ma nasa di merda tu non devi andare a far con gli astro fatti mangiare bagascia vieni questo qua mi sta scappando corri cavolo ananas dog è mio dog è mio porca ma sono più grande di nasa perché non riesco siete dei figli di puttana tutti quanti però datene anche mangiare aaaaaa non ho ancora capito se aaaaaa che bello sto inseguito da una luna aiutro ragazzi aiutro corri corri bravo bravo ti sei meditato la cena oggi si comunque piano no non ci credo c'è hitler no dai con i baffetti vieni qua bastardo vieni qua adesso vendico tutte le persone qui vieni vieni qui figlio di puttana ma perché siamo così lenti porca trota si è più veloce mia nonna fare mille metri porca bra bra adesso cos'è quello perché è così grosso lui ce l'ha grosso il personaggio in realtà anche lui corri si quello lì è da mangiare di pericolo no 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 via 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 si sono diventato big monster aaaaaa faffa culo faffa culo almeno due secondi di gioia potresti anche darmeli no concedimeli vedi come sono mezzo qui dai aiuto cioè non siamo neanche partiti già ci vogliono ma eh ma c'è il mondo contro aaa chi è sto qua piccolo insomma mangiamo 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 forza cresci aaa eeeh eeeh ctrl v per chat ma seriamente sono così coglione adesso chiunque tu fossi me la pagherai cara hai capito hai capito mi vendicherò per tutte le persone che hai preso per il culo in quel modo forse solo me ma se ti scolletti anche da solo e che cavolo vabbè che ero piccolo però che tu pacchi no ma porca tron ma vaffan zio zio allora tutti contro di me tutti praticamente io hanno fatto una congregazione di batteri bastardi contro di me non so ma ditemelo subito che cambio gioco guardali tutti su di me secondo me loro sanno quando spappa porca punta oh passa in mezzo passa in mezzo penetra un batterio in modo clamoroso ci sono gli sprint del 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 aiuto ne missa uno aiuto provate lo slalom in mezzo a otto uuuu madonna i numeri no perché non posso mangiare figlio di puttana amico siamo una bagascia di merda così facciamo il dancer il dancer si facciamo proprio il dancer si cosa è successo ha dato lo sprint di dio questo qua che cosa come capoguitana perché siamo noi gli unici che vanno a due chilometri all'ora che cazzo come come l'ho detto non volevo mangiarti ti ero sicuro ho visto ehi ehi ma forca no c'è anche stalin no c'è l'isis dai fatti mangiare oh ragazzi ne ho mangiati due sono alla soglia dei cento punti potrei anche superare un evento stop ragazzi ho mangiato tutto romania vieni qua che ti faccio stuprare da un gattini vieni qui bella bonacciona cosa sta succedendo Germania oh no stavo mangiando la Germania non ci posso credere vaffanculo siamo i più forti del mondo nessuno è forte come me ora nessuno è forte come me ne sono sicuro sono il più grande di tu beh aspetta non corrono non ancora aaa ok forse riesco si ok romania vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ma cascia di me mi boh boh sta tro fatti mangiare brutta mattona porca puttana perché non cresco più nazi 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 dai fatti mangiare bel bel vino fatti mangiare fatti mangiare ehi non provare a superarmi eh non provarci neanche oh comunque ragazzi siamo uno la puttana la puttana sto arrabbiando ragazzi mi sto arrabbiando per una volta che ho raggiunto cos'è quello per una volta che ho raggiunto i cento punti basta secondo me è il nome ragazzi secondo me è il nome perché l'ho solo chiamato Anna se non gli porta fortuna la prossima volta che muoio che sarà tra molto tempo cambierò il nome vieni qua come non detto no non ci sta super pasqualina ragazzi allora va bellissimo super pasqualina andiamo a mangiare in giro voglio la befana oddio però non arrabbiatevi tutti come vieni qui brutta bagascia vieni qua ti mangio tutti quando siamo piccolini agili possiamo schivare anche gli attacchi più duri delle più grandi cos'è quello perché si è appena diviso aiuto aiuto una Romania ci insegue oh guardate che bello mangiare in pace no 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 io porca puttana volevo mangiare in pace io unisco questi qua no forse è meglio non unisci più ok ciao piccolo insomma quello lì ok dai lasciatemi mangiare in pace così ma mangiamo che buona scorpacciata che buona scorpacciata i pallini colorati vieni qua non tu porca puttana non tu vieni qua aiuto aiuto che cosa volete da me stavo seguendo proprio me madonna gli slalom ragazzi gli slalom sono tornato sopra i 100 mi sento invincibile si ragazzi dai 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 sì 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 mi ha missato grazie al cielo vai così ragazzi abbiamo superato i 200 abbiamo superato i 200 soglia non da poco soglia non da poco che potrebbe farmi diventare subito il più forte del mondo venite qui di bagaglia tipo fatti bagaglia ma porca puttana vaffanculo per porca trota ma dimmi tu se quando superiamo i 800 milioni di punti non deve crashare la connessione vaffanculo tu piccolo humtigi vieni qui oh porca trota vi aiuto si non mi mangia che bello dai mi sento invincibile niente poco oh tranne lui evidentemente aaaah non inseguirmi non vedi che sono piccolo e innocente non c'entro niente io con questa faccenda si vieni qua brutto bagalone vieni qui andiamo dall'isis adesso anzi fuck off vieni qua fuck off ma porca trota ho proprio completamente ciccato la mia madonna la mia aaaah aaaah ma porca puttana dai unitevi unite unite porca puttana come si fanno a riunire adesso orca trota madonna io sto mangiando come un coglione ma porca trota non cresco niente aaaah 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 us abbiamo fatta nessuno ci caga bello madonna la proagine madonna la proagine passi in mezzo a due può fare quello che nessuno ha provato mai a fare aaaah come l'ho detto non lo farò mai aaaah madonna mia la schivata ragazzi aaaah si è andata anche hit mamma mia come lo schiva mamma mia ragazzi quasi schumacher prova a inseguire keppa papà fanculo porca trota ok ragazzi questo era agar.io se vi è piaciuto il video mi raccomando di lasciare sotto mi piace commentate iscrivetevi e al prossimo video ciao yeah Sì, 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 sì.